Un saluto. Da anni su questo canale YouTube cerco di mettere al corrente delle persone non solo dell'enorme menzogna sulla forma del meraviglioso regno piano che ci ospita, ma anche di come lo stesso sistema malefico in atto agisce in modo subdolo, oltre a metterci uno contro l'altro, per manovrarci singolarmente usando tutti i metodi possibili. Uno di questi metodi non è solo quello di metterci paura, è anche intrufolarsi direttamente nelle nostre menti attraverso il lavaggio del cervello. Vi ricordo che quando nella parte bassa leggete i titoli in arancione sono le voci da cercare attraverso l'indice alfabetico. Abbiamo già visto l'arma psicotronica, il televisore con tanto di brevetti e l'ho gridato ai 420 ma nessuno ha voluto credere. C'è anche il brevetto depositato, pertanto è in piena luce. Sta solo a voi andare a scartabellare attraverso il prezioso indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu per informarvi come fate con gli ingredienti non solo nocivi ma pericolosi che si possono leggere sulle confezioni dei prodotti alimentari. Oltre a trovare diverse voci sul controllo mentale, dovete sapere che esiste anche operazione Mockingbird per il controllo dei media. C'è lo stesso video sotto la voce CIA operazione Mockingbird. Altra prova incredibile su diversi comportamenti in base al credo. Trovate il video censurato della soffiata del pentagono col vacci progettato per modificare il comportamento umano. Le prove evidenti esistono ma i media creano e dirigono i pensieri dell'intera umanità altrove per distrarci e soprattutto per illuderci. Chiudo leggendovi il trafiletto dal libro Monarch, il nuovo programma Phoenix. Si tratta di una rassegna sul tema dei crimini di guerra compreso l'uso di armi a microonde contro i civili usato dalla CIA durante la guerra del Vietnam. Sono passati quasi 50 anni. Avete idea di che progressi hanno fatto? Vi ho tradotto parte della pagina 12 dove si legge persone interessate all'intelligence dell'esercito, INSCOM, sono state responsabili dello sviluppo di armi a microonde non letali per l'esercito dal 1980 e hanno lavorato presso laboratori governativi di armi come lo Salamos, dove è stata inventata in segreto la bomba atomica. Hanno espresso interesse nell'uso di armi non letali per modificare il comportamento umano e le persone neutrali. Hanno pubblicamente sostenuto l'uso delle armi elettromagnetiche EMW per attaccare i civili nelle loro case. Alcuni di loro hanno avuto un ruolo determinante nel trasferire le armi militari classificate dal DOD, Dipartimento della Difesa, al DOJ, Dipartimento della Giustizia, e nelle mani delle forze dell'ordine locali e di altri per usarle contro, nemici interni coinvolti in disordini interni, che è abbastanza vago e può significare chiunque. Nessuno di questi ufficiali e fisici dell'intelligence è superstizioso o crede nelle idee borderline che promuove. Le superstizioni, come la visione remota, sono una cortina di fumo, vale a dire coprire operazioni militari dell'intelligence dell'esercito per coprire lo sviluppo e l'uso delle armi elettromagnetiche EMW. Questi uomini sono esperti in operazioni di guerra psicologica con oltre 45 anni di esperienza nell'arte del depistaggio, del sotterfugio e della guerra di controinsurrezione. In descrizione vi lascio il link dell'articolo originale in lingua inglese CNN 1985 in carico speciale armi elettromagnetiche e controllo mentale. Finché non spegnete tutti i device di informazione e non vi dedicate alle cose fisiche attorno e vicine a voi, resterete irrimediabilmente invischiati nel sistema di sottomissione. Ognuno di noi è monarca di se stesso, non ha bisogno di ascoltare né tantomeno interpellare ed assolutamente di non consentire e delegare le nostre scelte a qualcun altro. Buona vita libera e felice!